Prima aveva messo a segno un colpo a volto scoperto e armato di taglierino alla banca Valsabina di Via Trento in città portandosi via 1000 euro e 21.000 yen, poco più di 200 euro. Poi a novembre 2011, un mese dopo, aveva preso di mira l'Unicredit di Via dalla Chiesa questa volta camuffandosi con una parrucca ed una calzamaglia. Ma è bastata una timida reazione del cassiere per mandarlo nel pallone tanto che durante la fuga ha abbandonato la calzamaglia nella filiale. Questo ci ha permesso, ha permesso meglio a RIS di prelevare una traccia biologica che è confrontata con un tampone salivare preso dal sospettato ci ha permesso di venire, di trovare la prova regina che è quella del DNA attribuendo una responsabilità precisa e chiara al soggetto. A finire in carcere per mano dei carabinieri della stazione di Sant'Eustacchio è stato Francesco Perretta, 41 anni, bresciano, nulla facente, residente in città con alle spalle diversi precedenti e intanto a Brescia i rapinatori di banche hanno rallentato il ritmo. Dai dati che abbiamo in possesso considerato il primo quadrimestre abbiamo una netta diminuzione delle rapine in banca nel primo quadrimestre di quest'anno ce ne risulta soltanto una mentre nello stesso periodo dell'anno scorso erano già sette.